Presentata la campagna abbonamenti congiunta calcio basket dalla Scandone Avellino e dalla Calcio Avellino SSD, la proprietà Sidigas vuole riportare entusiasmo in entrambi gli ambienti ed apre le porte del Mauro e dello Stadio Partenero Lombardi a tifosi ed appassionati per una stagione a tutto gas. Ci sarà un abbonamento unico per poter frequentare entrambi gli impianti per tutti gli eventi, come ampiamente anticipato e scontistiche particolari. Abbiamo studiato delle idee per integrare le due campagne. Dichiara il DS Nicola Alberani in apertura di conferenza stampa per quello che può essere definito Con questa praticamente iniziativa degli abbonamenti si può dire che sul piano, magari non ufficialmente, ma ufficiosamente e concretamente è nata la polisportiva oggi? Eh, diciamo che è un primo passo, poi formalmente no, però l'idea ci potrebbe essere. Adesso vediamo, intanto nasce un bel polo di aggregazione. La Sidigas propone un piano di offerte per gli amanti del calcio che vogliono sottoscrivere l'abbonamento alla stagione agonistica 2018-2019 della Calcio Avellino SSD. La Sidigas offre curve a 70 euro, tribuna Terminio 120, tribuna Centrale Montevergine 300, sostenitori 500. Per il basket sono state previste tre formule, silver, abbonamento solo campionato o solo coppa, gold, campionato più coppa. E poi c'è l'offerta platinum, che comprende calcio e basket. Quest'ultima formula prevede la possibilità di modulare il pacchetto con abbonamenti di un differente settore a seconda dello sport da seguire. Per il basket i prezzi degli abbonamenti sono i seguenti. Tribune VIP 1340 euro, centrali 550 euro, tribune superiori 335, distinti 220, curve 165. Questo per il pacchetto silver. Per il pacchetto gold, VIP 1570 euro, tribune centrali 584 euro, tribune superiori 420, 260 e distinti e 200 le curve. Chi punterà sulla formula platinum potrà usufruire dello sconto del 20% per assistere agli incontri completi del calcio e del basket. La campagna abbonamenti partirà da giovedì e terminerà per il calcio il 20 ottobre, mentre per il basket si concluderà il 4 novembre. Sarà possibile acquistare le tessere presso il botteghino dello stadio Partenio Lombardi per entrambi gli sport o presso i rivenditori del circuito Viva Ticket, ma il tagliando dovrà essere ritirato al botteghino. Per comprare la tessera sarà necessario scaricare il modulo sui rispettivi siti.